Ora vi farò vedere come il consigliere Renzo Bossi utilizzerà questi fondi della Lega Nord, fondi che sono destinati a noi autisti per l'uso e il mantenimento della macchina e delle spese giornaliere. Questi fondi ovviamente sono coperti e giustificati con scontrine o cosiddette pezze giustificative. Questi sono i nostri rimborsi. Fondi che ovviamente sono destinati a noi e che non potrebbero attingere i politici del partito perché sennò potrebbero fare tutti. Ora vi farò vedere come lui adesso prenderà 50 euro da uno scontrino che mi ha dato, che io antecedentemente a questo video ho fotografato e che ho qui con me adesso, prenderà queste 50 euro. Ovviamente non sono le uniche che lui ha preso. scontrino di benzina della sua macchina. 50 euro. mi sono vestito come un cretino, mi sono vestito con i jeans. Io stavo a lavorare in un ospedale. Eh no, io ti ho preso, scontrino i borsi, togli le ultime cose. Ah perfetto. E te sei a posto. Sora... La stau... La stau. La stau. Una stau. Te sei a...